Chiamiamo sul palco per la premiazione Riccardo Bora Molto ai chi? Molto ai chi? Riccardo, il migliore, il migliore Roberta Coricione, Special Olympics Giocco Mondiale Normani, Presidente della Cora Firca Stefano Serafini, Special Olympics Giocco Ibernari Mondiali, 4.9 Riccardo Bora, Finsira, Atletica e Nuova, classe 1983 Fino ad agosto del 2013, careggiava con la polisportiva in Ita Pielese Ora con un team a BDT, Società Gimnastica Lavandola Campione italiano da Cine Giavellotto con 15.98 Nel moto campione italiano in mascarponte, 50 metri stile libero 38.90 e 100 metri stile libero in 1 minuto 26.60 Carlo Brignoli